ragazze ragazzi buonasera a tutti rieccoci qua su serventile 2 enhanced edition vediamo in tutti insieme cosa tratta la nuova cioè nuova insomma l'altra campagna esatto nato da un desiderio vediamo un po io giocherei sempre a normale hanno mai fatto scegliere la difficoltà do those monsters get me? I don't have any reason to go on living but but I'm scared to die I'm so afraid of pain Sì, dovrei riuscire? Voglio riuscire a trovare qualcuno. Non mi piace essere solo. Ma... Ma c'è qualcuno restato vivo? Siamo Mary. Rettigli per Revolver. Abbiamo la mappa. Ah, partiamo... Eleven's Night. Ok. Ricarica. 10 colpi. Basta. Cosa... Aspetta, cosa guarda? Anche lei c'è il radar. Aspetta. No. No. Ah, lì... Ah, ok. Guarda lì. Aspetta. Oh. Ok. Non c'è altro. Sembra di no. Qui... Eh, ma ho la mappa della città, non quella locale. Quindi... Qui niente. Qui è il club. Mannaglia cinese. Kit.soccorso. Niente. Eh, però... Adesso io non so se andare di là... Cioè qua. Andiamo. Qui niente. Ah, no. Non c'è. Ah, no. C'è una porta. È chiusa. Qualcuno ha messo della gomma nella serratura. Non posso aprirla da questa parte. Ok. Quindi è di là per forza. Non mi ha fatto uscire la difficoltà degli enigmi. Quindi forse non ce ne sono. E qua siamo fuori. Ok, ma la nostra destinazione... Boh. Ah, non c'è... Non si può cambiare. Quindi l'area di gioco mi sa che è solo questa. Però... Ma fa vedere... Coltello a lama quadra. Brutto ma potente e facile da usare. Va bene. Ok, ci saranno... Vabbè, all'aperto lievito. Qua c'è qualcosa, no? Qua sì però. No, ah, qua. Vado. Ando a salutare. Ah, Brookhaven Hospital. Qui non posso fare niente. Niente. Si che poi non è Mary e vabbè, è Maria, ok. Vabbè. Vabbè. Qui li evitiamo. Vado di qua? Non so. Dove siamo? Beh, in teoria è bloccato. Era bloccato, mi pare. Però... Andiamo a vedere di qua. Qui non c'è niente. No. Ok. Allora, sono finito. Ah, c'è nulla in alto. Ah, guarda qua. Un po' di cure, ok. Non è che dobbiamo andare al parco, tipo. Però... Non sarà diretta la strada. Qua cos'è che c'era? Blue Creek Apartment. Magari dobbiamo andare nel condominio. Quello non lo so. Io clicco un po' dappertutto. Perlomeno dove mi ispira. Non so. Cioè. C'è una scala. Chiuso. Si vede poco. Qui stiamo andando di qua. La testa sua è dritta. Quindi non c'è nulla. Se ci fosse qualcosa... ...da girerebbe. Oh. Attenzione, manichini. Oh. Ah, no. Un veicolo cieco. Ok. Lasciamoli perdere. Qui non mi sembra ci sia nulla. Ma la nebbia mi sembra più fitta. Però, boh. No. 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 Vado dritto. Vado dritto. Vado dritto. Qua è bloccata. Qua c'è. Una porta questa. No. Ah, qua. C'è il sangue. Qui c'è qualcuno. Aspetta. Si. Ok. Aspetta. Ok. Aspetta. Ok. Non posso aprirlo. Qui non c'è niente. Dove siamo? Nuova mappa di questa zona. Va bene. Aspetta. Ok. Tutte le porte. Devo toccare. Aspetta. Si l'ho visto. Ma non devo toccare tutte le porte. Ok. Adesso possiamo andare. c'è un salvataggio aspetta, prima prendo kit, progetti di revolver va che ce n'è un altro ok salviamo ma magari questo vabbè no, si non tocchiamolo qua è chiusa chiusa non usare il caminetto è stato chiuso, c'è scritto non usare e ora lo dovremmo usare guarda ah la mappa ho trovato la mappa di casa Baldwin a vedere siamo qui ok salvataggio lì forse devo andare di qua ma niente ma una torcia progetti di revolver un po' di colpi qua niente qua ci sono i soliti manichini sguardo qui è chiusa is somebody there open up no no ma 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 no no Oh, non ho capito. Voglio essere solo, altre persone mi irritate. Voglio solo vedere un'altra persona. Sai cosa sta succedendo in questa città? Non c'è nessuno qui. Solo moni. Sì, lo so. Ma cosa? Non c'è nessuno con me. Non c'è nessuno qui. Non c'è nessuno che disturbia me. Voglio essere solo in questa città? Sì, certo. Ma cosa puoi dire che è questa città che è insieme? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno che siamo insieme. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Doi? No c'è nessuno. Mi nome... ...is... ...Maria. What's your name? Ernest. Hemingway. casa Baldwin ma si è detto che non vuole essere disturbato ma lascia stare non ho capito vediamo se per caso no no quindi dobbiamo andare per forza sì di qua qua abbiamo manichini tavoletta bianca tavoletta bianca di metallo con dei fori quadrati trovata nella sala d'ingresso al secondo piano una volta ho trovato il bianco fiato offrerò questo oggetto oh spirito della nebbia portaci eterna fortuna scritto sul retro ok e a te facciamo così ok è chiusa aspetta magari devo inserire quell'affare da qualche parte chi è che corre ah si è aperto per qualche motivo nel caminetto c'è una scala che va su in alto vedo qualcosa che sembra un buco si che ha visto tavoletta rossa tavoletta rossa una volta trovate le rosse parole offrerò questo oggetto dai tormenti portateci eterna fortuna aspetta tavoletta nera ma dov'è qua una volta trovato il nero grallo offrerò questo oggetto tu che rinneghi da morte portaci eterna fortuna qui c'è una chiave di cos'è al centro della lapide c'è un'impronta quadrata e sopra scolpito con cura un epitaffio con te è morta la gioia tutto ciò che rimane la disperazione è un futuro di domani senza significato ma io non mi arrenderò mai uno per rivedere il tuo bellissimo sorriso uno per chiedere la benedizione degli dei sarà due però aspetto quel giorno quando le tavole copriranno tutto tutta la tristezza sarà coperta sarà coperta ma fin quando i miei sogni non diranno realtà devo inghiottire il mio dolore c'è una chiave incassata nella roccia sotto l'impronta per quanto mi sforzo non riesco a tirarla fuori forse qua va quella nera ho messo la tavoletta nera nel buco non succede niente la tavoletta è stata inserita sì magari proviamo quella bianca perché quella rossa e quella nera le ho trovate qui quindi non so proviamo questa qua bianca tavoletta bianca non succede niente e io provo anche quella quella rossa intanto per provare no nessuna delle tre mi sa sì comunque c'è una chiave qua qui non c'è nient'altro no fa vedere la mappa cosa c'è non fa vedere niente sì vabbè salviamo ok e non lo so mi serve quella chiave sicuro però qui niente qui le ho guardate tutte le porte però magari qualcosa si è aperto adesso non so no sto pensando eppure boh tre tavolette ho trovato ma magari non ho guardato bene da qualche parte signor Baldwin qui forse no no come prima qui dove c'era ok e aspetta questo no niente qua è racchiuso magari devo fare qualcosa con quella targhetta però ma qui poi mi sembra ci sia qualcosa però non sto premendo ma non succede niente sembra tipo una leva però qua però non so torno su e si è sbloccato solo questo quindi secondo me qua dobbiamo fare qualcosa ci serve quella chiave però tre tavolette abbiamo cos'altro no qui non c'è niente scusa abbiamo bianca nera e rossa aspetta non c'è niente non c'è niente bianco fiato no non è mi sa che non è questo mi sa che non è questo trovate il nero graal ma questa è una lapide non è questo le rosse parole non credo sia questo infatti nessuna delle tre ha funzionato però e' no ma che sto pensando non è che c'è molto altro da vedere voglio dire ho toccato tutte le porte le ho toccate tutte non so se magari fuori c'è da vedere qualcosa vabbè ok ma quello è un po' da cenere aspetta non ci posso neanche arrivare quello mi sa che è un po' da cenere ma volendo si può uscire ma morto c'era anche prima non ci ho fatto caso prima la porta qua è chiusa però si può uscire e qua si torna ok diciamo in città sulla via principale se secondo me devo vedere lì dentro però ah guarda qua ok qui c'è una voragine vabbè almeno ho fatto bene a uscire no la soluzione sarà lì dentro non credo se è svegliato o no scusa morto non ci posso neanche camminare sopra non saprei oh mi è sfuggito qualcosa da qualche parte un dipinto figurante dei fiori non c'è niente peccato ma vuoi rubare qualcosa una serie di piatti decorativi niente particolarmente interessante non c'è alcun motivo di usare il telefono ma io non credo però qua l'avevo già toccato qui non si vede niente ma o non ho visto qualcosa qua c'è ok Baldwin qua è chiusa l'unica via era questa ma qua l'avevo già guardato però me sta maniglia non me la racconta giusta però non posso fare nulla non è interagibile aspetta eh c'era qualcosa cioè dove aspetta aspetta si è sbloccato qualcosa allora io ho inserito a caso la tavola rossa poi ho detto provo a inserirne un'altra e quindi magari vanno messe tutte e tre qui in maniera particolare si aspetta usa lo sto facendo completamente a caso però si tolgo tutte le tavolette si allora aspetta qua bisogna metterle in un determinato senso aspetta ci sarà sicuramente l'indizio non ho capito allora tavoletta tavoletta nera partiamo la tavoletta nera poi mettiamo questa qui così così boh va a coprire qualcosa non lo so ma sicuramente andrà girata o cambiata però non lo so dovranno combaciare riesco ancora a vedere l'altro lato sì ma tanto no così non va bene adesso capire aspetta capire se forse devo non lo so però cioè guardarle così qua ci sono due buchi in alto uno in basso cioè devo girarle magari in modo che tutti i buchi non si sovrapponano tipo no ma cavolo cioè bisogna avere un po' di immaginazione ma allora e poi non so neanche con quale partire poi una prima te la fa inserire così cioè non ti fa scegliere la rotazione quindi è la base invece le altre te le fa girare dunque io provo 90 gradi a sinistra così e questo non so 90 gradi a destra eh ma non si è sbloccato nulla quindi boh no qui non aspeci devo pensare un po' oh aspettate aspettate oh con le tre tavolette sovrapposte a chi è venuto via no poi ok nella frase della lapide diceva diceva quando tutti i buchi saranno tappati quindi era quello ok però mi ziga arrivarci cioè ho fatto un po' ragionando è un po' a caso perché ho fatto un po' di tentativi ma lo scopo era tappare tutti ok ho trovato chiave della caccia va bene lo scopo era tappare tutti i buchi con le tre tavolette però bisognava girarli in una altra maniera però mi ziga cioè ho detto poco fa non ci saranno enigmi questo è stato difficilotto fermare un po' la testa immaginarmi i buchi eccetera però adesso con la chiave dove cioè che con su scolpito un fiore di mimosa trovata incassata in una asta di pietra boh sarà una di quelle porte chiuse aspetta forse qua ce n'era una questa però forse no no infatti no questa mi sa che la usa in automatico però no aspetta un'altra porta chiusa dove era ah lì ce ne sono due devo andare su ecco bene sì su qua no qua si può andare lì in fondo c'è una porta chiusa anche qua qua dove c'è ah no sì vabbè va bene va bene questa era chiusa ma no allora forse di qua era qui ok si muove qualcosa ma ok c'è una porta niente cosa guarda aspetta questa si apre qui ah dove si si vede poco kids room aspetta magari se non una stanza chiusa stanza dei bambini fiammiferi diamo fuoco lettino per bambini diamo fuoco alla casa i pelucci sono allineati il calendario dieci anni fa dieci anni fa novembre niente cosa dice sono due o tre fiammiferi rimasti trovate nella camera dei bambini oh madonna chi è alla fine la ragazza ha detto cos'è successo però e qua è buio io non vedo niente se potessi fare un po' di luce e ma ne abbiamo tre vabbè vediamo no non si può usare ci vuole una candela qua qua forse ce n'è una si esatto robaccia dalla tela del ragno non sembra essi niente di utile vabbè robaccia io ho acceso per vedere robaccia a parte che io l'ho acceso qua non lì in mezzo no qui niente una candela accesa qui genera un po' di luce no ma davvero non c'è niente scusa eh qui sotto forse ah ecco c'è qualcosa sotto la sedia è un biglietto di compleanno al mio carissimo babbo auguri di buon compleanno da emi baldwin ho il biglietto di compleanno che ci faccio ah basta non ho la mappa di questa zona addirittura è un'altra casa non so datela a chi al tizio Ernest è rimasto fisso il datela vediamo è un toscano ha tradotto ha fatto le traduzioni non so eh il solito babbo si usa in toscana per papà almeno che lo sappia oddio posto ok ok sarà Ernest Baldwin vediamo era no aspetta fammi vedere no questa questa me puzza questa qua però vabbè non è cambiato niente oddio e già lei non ha la radio è vero è vero lei non ha la radio faccio no faccio ah si aperta adesso si aperta bevanda salute ha visto qualcosa altro attenzione aspetta prima guardo di qua ok sì ma non c'è niente di interessante dentro o sopra il caminetto qua ci sono con gli animaletti schifosi ora è aperta dove sono sbucato aspetta ah devo devo vedere di là però dov'è aia ok ok non vedo aspetta però va ok qua c'è un manichino eccolo poi io li chiamo manichini poi non lo so mi sembrano dei manichini con le gambe basta ok un vaso la statuetta di un leone adesso non mi servono che poi ti serviranno allora prendili no adesso non mi servono aspetta che ricarico ok non vedo qua e qua piuttosto li vado addosso ok qui niente niente come niente ah ma qui ci vedi tu io no aspetta ok ok ma c'era un'altra porta di là ah no aspetta dov'è dov'è e qua e rai ma ci vedi ok per niente sono tornato indietro ma niente qui niente scusa ah no niente cosa cosa ha visto ha visto qualcosa qua ok ok quanti ne ho oop olio qui ci sono un secchio e una scopa non me la sento di fare pulizia ma come ma che pensiero è scusate non mi sembra il momento però cioè di un pensiero del genere non fa niente è l'animo da casalinga che parla probabilmente io però mi sto un po' perdendo anche se no abbiamo visto tutto comunque ok e aspetta di là ah c'è un salvataggio eh vedi fammi salvare dov'è ah ok ecco lo intravedo ok 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 ce n'è un altro si di là eh aspetta non si vede una mazza qui c'è un orologio ma sembra essere fermo questo non mi serve a niente cosa ne sai sto scrivendo ci sono dei libri niente di interessante la via piena edizioni complete di libri dall'aspetto molto complicato antiche memorie ho molta fiducia voi potete anche chiamarla fede nel miracolo della resurrezione dei morti sulla montagna dove scendeva la luce la bestia intornò il suo canto con parole di sangue gocce di nebbia e la notte come vascello la tomba diventò un campo aperto la gente piangeva di paura e di gioia per questa riunione ma la mia fede nel salvataggio di Tsukibaba non vacillò se ne parla anche nelle antiche leggende i primi fedeli consideravano la morte non come la fine ma semplicemente come un percorso attraverso il quale un trapassato torna alla natura e per loro il processo era reversibile c'è scritto qualcosa in fondo alla pagina è stato Ernest a scriverlo che vorrà dire sangue uguale rosso nebbia uguale bianco notte uguale nero vabbè ok do you know a little girl named Amy why do you ask me that this letter to my dearest daddy it's from a girl named Amy Baldwin your daddy yes where'd you find that up in the attic oh what a fool now it's too late I finally understand why why she was there why she was holding that empty envelope which she which she fell Ernest Amy she isn't I'm sorry I'm sorry I reminded you no need to apologize you didn't remind me I've never forgotten Maria some things we forget some things we can never forget it's funny I'm not sure which one is sad it's been ten years but I still Ernest I'm sorry I didn't know no it's fine Maria that letter I'll leave it here thanks Maria so you must be that's why that's why you could see me huh so perhaps that means that I can hope for a miracle as well what do you mean in the apartment next door there's a bottle containing a white liquid I don't know exactly where it is but I know it's in there somewhere I must have it you want me to get it for you please why don't you just get it yourself if I could believe me I would but I white I'll open the stairway door Ernest do you really believe it will work I don't know well that's okay I don't mind fighting for an impossible cause anyway it beats just giving up and doing nothing maria thank you boh ma scusa questo qui beh cosa cosa guarda ah qua ero dimmi per suo padre Ernest trovato insieme al biglietto di compleanno penso che lo lascerò qui ma perché lo guardi qua vabbè sei strano come questa città ma siamo sicuri che guarda il biglietto non penso di vedere altro ok ah perché forse aspetta non ci ho più ah i fiammiferi ah no a posto allora niente aspetta che ricarico vabbè vabbè tira a guardare vabbè cioè ma lui ha tipo tipo una sala di controllo aspetta mi apre le porte lui lui aspetta una porta non l'ho ah vedi una porta eh ma allora questi tornano in vita no ce n'è un altro però eccolo lo intravedo ma perché non si vede ok apre le porte da dove è situato lui ora è aperta ora è aperta ma ah vedi abbiamo fatto il giro abbiamo fatto il giro eh poi salvo comunque ok aprivo una porta ma vabbè mo vi lascio ma io non ve ok grazie qua non posso passare un muro blocca la strada vabbè torno di qua quale porta priva ha detto proviamole tutte forse questa non so no no eh no no fammi vedere va eh aspeh forse ora lì non lo so eh no aspeh provo dov'è di qua di qui forse era questa non ho la mappa mi sa il parola di sì che è questa sì qua ci sono specie di targa per terra Amy Baldwin era troppo amata da dio sette anni o ne hanno tempo sufficiente ci sono ancora sti insetti io premo il pestone così appena si avvicina ecco ecco o le posto o ma qui parole no un po' di luce finalmente dov'è ma sono lì la targa dal palazzo dei fantasmi è morto così forse qua e la luce è durata poco aspetta aspetta un attimo come ho riconosciuto sto posto è il condominio anche di un attimo qua c'è un foglio ah ecco vedi mappa della palazzina ok ok allora vediamo prima primo piano non c'ho mi sa che devo fare pulizia qua ok ok lo sento qua no era dall'altra parte adesso qua siamo vabbè mettiamo dal fondo qui ok qui niente questa non si apre aspetta qualcuno sta arrivando stardo stardo vieni qua dove pensi di andare oh andiamo andiamo fino in fondo ricarico ok aspetta qui dove sono arrivato di qua ok ok ah questo qua ah ho trovato il liquido bianco ah ho scritto qua sulla scrivania ma è troppo buio per decifrare ma non è questo voleva adesso io già che sono qua qua c'è il salvataggio io risalvo già che sono qua io guardo tutto mica me ne vado metti che troviamo qualcos'altro ok ah la fiala no la cura ok qua c'era la lavanderia ok qua manca da toccare le ultime porte io controllo sono l'ispettore qua ispeziono allora qua ok adesso saliamo andiamo su ok vai eh no eh non te aspetta qua ci sono no non l'ho preso è passato aspetta eh sto continuando a premere il pestone eh visto ok ok partiamo dal fondo tac no oh madonna ho visto due gambe aspetti eh adesso è il suo turno ok qui c'è niente non si vede una mazza non si vede una mazza questo è il disgustoso questo è il water con dentro si oh ops riesco a vedere l'appartamento accanto dalla finestra va bene ma niente non c'è niente una cassaforte ma non so come aprirla la so io la so io cioè vede le casse forti così tutto al buio ma gli oggetti chiave o determinate cose no eh ok niente qua qua non c'è niente questa avevo già toccata si vabbè ah c'è no questa è una porta strana vada per terra che la finisco ok e chiudo ci un bietto taglato alla porta caro team sono uscito perché ho una faccina da sbrigare si questo me lo ricordo ho uscito la chiave di casa con lo zio david tu sai dove abita no la chiave è nella stanza vicino alla scala del primo piatto non ero appena posto quindi vada a casa sicuramente non ci sono vabbè e si questo è un pezzo della mappa del gioco bari una porta aperta qua è dove c'era c'era stato lo scontro la prima volta con testa di piramide e io non vedo niente non vedo proprio niente aspetta mi dovrebbe condurre al vicolo che porta al parco ma prima devo rispettare ah vedi di qua ci dobbiamo passare beh beh quindi sappiamo la strada ok perfetto magari l'ho anche ripulita quindi devo andare da Ernest ridargli la cosa lì che vuole ok era giù vabbè questi lievito eh dai ok tanto vabbè qua qua è un po' difficile ma io lo spingo via e lo saluto anche se non mi ricordo la strada forse forse è giusto sì sì perché non è che possiamo sparare a ogni essere perché comunque è vero che i colpi li sto trovando fino a un certo punto aspetta non ho la mappa ok allora era di qua forse no non mi ricordo di qua di qua vabbè salvo va ok ascolta lasciamo perdere ok non mi ricordo Ernest, potrei aprire questo? Questo è un fine morto. Non c'è nulla di qui. Lo so. Quindi... Cosa se mi ha detto che credo in fate? Questo è James. È un buon uomo. Scusa, come fa a sapere? Come lo so? Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Ma lascerò parlare. No, no, no. Ok. No, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No. Sono anche leggermente sporchi di sangue. Scusa, non entriamo neanche. Scusa. Ah, ma... Scusa, non entriamo neanche. Scusa, non entriamo neanche. James Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? My name is Maria. Bo, eh... Quindi... Questa campagna, diciamo, era... A parte che è cortissima, non pensavo fosse così corta. È un episodio solo, mi sa. Beh, comunque... Sì. È un prequel, praticamente, dove impersoniamo Mary, cioè Maria, prima che incontra James. Però... Qua non è chiaro... Non è molto chiaro. Io pensavo di dover tornare io indietro. Invece, una volta consegnata quella boccetta... Ha fatto tutto lei, non lo so. Cioè, appunto, io alla fine di Silent Hill 2 pensavo che lei fosse... Cioè, non fosse propriamente reale, fosse un'allucinazione pesante di James, no? Però lei... Cioè, non si è creata quando James si è avvicinato lì al parco, lì al luogo del parco. Ma si è creata prima, sembra. Boh, dal nulla, poi... Non so. Si è svegliata lì nel locale. Boh, non saprei... Non saprei che dire. È molto corto. Penso nulla di che. Poi, magari, se vado su Wikipedia a leggere la trama, se c'è, il tutto sarà sicuramente più chiaro. Però, così su due piedi... Allora, Maria forse è un'entità creata dalla cittadina di Silent Hill per tormentare James. Probabilmente. Però non era questo il suo scopo iniziale, visto che gli è venuto in mente dopo. Non saprei. Boh. Vabbè, comunque, si può dire che abbiamo finito tutto il pacchetto di Silent Hill 2. E in generale, comunque, ribadisco che questo secondo capitolo mi è piaciuto rispetto al primo. Molto più bello. Anche la trama, per quanto criptica, eccetera. Non è male. Bisogna sempre pensarci un pochettino, però non è male. Il gameplay funziona bene, devo dire. Sì, è degnoso, ma è il risultato, appunto, di quell'epoca. Quindi c'è poco da fare, ma va bene così. Ci si può abituare. Ecco. Niente, vediamo un po' com'è il terzo. Questi li avevamo già visti. Ok, ecco. Risultato partita. Allora, normale. Eh, un'oretta al tempo effettivo, poi magari non so. Ho avuto qualche difficoltà con quell'enigma, ma nulla di complicato. Vediamo. Bah, la mia posizione non si sa. Vabbè, comunque frega poco. Alla fine basta averlo finito. E va bene. Quindi adesso posso ufficialmente installarlo. Esatto. E noi ci rivedremo al terzo capitolo. Quindi io, come sempre, vi ringrazio, vi saluto. E ci rivediamo su Silent Hill 3. Ciao a tutti, ragazze e ragazzi. Ciao a tutti. Grazie a tutti